Biancorossi sono ottimi, con Rabbi si gira molto bene, salta un uomo, arriva sulle tre quarti, il pallone per Cesarini ancora in aria, attenzione, calcio di rigore per il Piacenza, ma il Renate sembra non essere in campo, un'azione in verticale, andiamo a rivederla perché c'è stato un po' di confusione, il signor Sfira devo dire la verità, non ha avuto dubbi, Rabbi il tocco in verticale per Cesarini, in qualche modo la palla arriva a Corbari, entra in aria, viene affossato clamorosamente proprio da Silva ed è calcio di rigore per il Piacenza con Cesarini pronto a battere, Cesarini contro Drago al minuto 4, 4.30, quasi 5, mette giù ancora il pallone il capitano, il numero 10 del Piacenza, la rincorsa, tre passi, poi un passo a sinistra, il fisco e la rincorsa, il tiro e il gol! il bago! Cesarini, Cesarini! Quinto minuto del primo tempo, Piacenza in vantaggio, potevamo essere 3 a 0 in 5 minuti, siamo solo 1 a 0 su calcio di rigore, ma va bene così!